Il prossimo 2-3 di luglio se li celebreranno in Fondazione Bruno Kessler i 40 anni del Centro per le Scienze Religiosi. Ci vuole raccontare un po' come sono stati questi 40 anni? A dire il vero non li ho vissuti direttamente, quindi è difficile anche raccontarli. Ne posso parlare basandomi sulla memoria di chi mi ha preceduto. Questi 40 anni sono stati segnati da una fondazione che risale alla persona di Monsignor Inginio Roger. Inginio Roger, prete trentino, uomo di alta cultura, ha diretto questo istituto per più di 20 anni e ha impresso a questo centro in fondo anche la specificità del tipo di culture che lui coltivava. Agli inizi il centro si è occupato soprattutto di problemi storici, in stretta collaborazione anche con l'istituto Fratello, che è l'istituto italo-germanico della stessa fondazione Kessler e si è basato in fondo su una eredità dovuta al fatto che qui a Trento poi c'era la presenza di una grossa biblioteca dedicata al XVI secolo e alle vicende legate al Concilio di Trento e quindi la prima fase delle attività del centro sono legate soprattutto a questa eredità storica del fatto di essere una città che ha visto un concilio che ha marcato tutta la storia d'Europa. Poi Inginio Roger lasciò la direzione del centro e la passò al professor Antonio Autiero che rimase pure qui a Trento per 14 anni come direttore e gli interessi mutarono in parte passando non solo dal registro storico a problemi contemporanei a problemi legati alla congiuntura del fenomeno religioso così come si manifesta nelle società cosiddette secolari e la direzione del professor Autiero analizzò una serie di problemi legati a queste nuove realtà del fenomeno religioso nell'Europa contemporanea e solo gli ultimi tre anni li ho vissuti io personalmente ecco e da tre anni in qua i due punti chiave, i due punti focali tematici del centro sono dati da una parte dal dialogo interreligioso e dall'altra dall'etica applicata non significa questo che il centro non si occupi di null'altro si occupa anche di altri problemi ma fondamentalmente i due temi principali sono appunto questi sul fronte del dialogo interreligioso siamo interessati a capire come le società contemporanee mutino la categoria centrale fino ad alcuni anni fa era quella di secolarizzazione si aveva l'impressione che l'interesse per il fenomeno religioso si ritirasse nella sfera privata non fosse più di rilevanza pubblica e una serie di avvenimenti recenti in Europa ci fa vedere invece che le cose non stanno così semplicemente e quindi il nostro centro si è occupato sia di varie teorie sia di vari approcci diversi, di varie interpretazioni che vengono dati al fenomeno religioso oggi sul fronte dell'etica applicata invece ci siamo interessati dell'impatto che le nuove biotecnologie soprattutto hanno sulla vita dell'essere umano oggi ci siamo occupati di etica sanitaria, di bioetica da una parte ma ci siamo interessati anche a problemi di diritto penale per esempio ci siamo occupati della problematica a sapere se lo stato secolare sia capace o non sia capace di vero perdono la possibilità di una visione diversa del diritto penale ad esempio e come dire il filo rosso poi del nostro centro è dato non soltanto dalle attività di ricerca i ricercatori nel frattempo sono passati da 4 a 7 quindi si tiene conto anche dell'ampiezza più forte diciamo così delle aree tematiche ma c'è anche il filo rosso dato dal fatto che il centro al di là dell'attività di ricerca propone anche un corso, un corso superiore di scienze religiose che abilita coloro che lo seguono a diventare poi docenti di religione nella scuola pubblica italiana questo corso ha avuto un salto di qualità negli ultimi anni per il fatto che la conferenza episcopale italiana ha deciso che i docenti di religione cattolica nelle scuole pubbliche non debbano avere semplicemente una laurea breve come diploma necessario bensì una laurea specialistica e quindi siamo passati da un corso che durava tre anni a un corso di cinque anni il fatto che l'Italia non sia più un paese monoconfessionale bensì un paese che sta incamminandosi verso una società pluriconfessionale è un fatto innegabile cosa questo comporterà sul piano istituzionale per esempio sui rapporti tra le chiese o le comunità religiose e lo Stato non tocca a me dirlo sarà difficile anche ad anticipare io stesso non sono cittadino italiano e quindi non posso ipotizzare quali siano gli scenari possibili comunque al di là degli accordi giuridici tra comunità religiose da una parte e lo Stato italiano il fenomeno in quanto tale merita tutta la sua attenzione ci sono una serie di luoghi in cui questa pluriconfessionalità provoca se non dei conflitti perlomeno dei momenti di attrito si pensi che non so io alla presenza di confessioni religiose non cattoliche nella scuola, nel mondo della scuola nel mondo della cultura e dei media al fatto che alcune religioni abbiano delle abitudini e delle norme alimentari diverse da quelle della maggioranza degli italiani quindi si tratta di un fenomeno che si manifesta in vari luoghi della vita sociale e tutti questi aspetti meritano un'attenzione particolare quello che ho accennato appunto del cibo per esempio è una cosa che non provoca forti conflitti comunque che è degna di essere esaminata in maniera critica ciò è possibile per il nostro centro per il fatto che si tratta di un centro di scienze religiose che non è diretto in maniera esplicita da parte di una comunità religiosa quindi non è un istituto confessionale è un istituto non confessionale anche se alberga al suo interno questa parte confessionale che è data dal corso superiore di scienze religiose grazie a tutti